Setup dell'ambiente di sviluppo e di un progetto per una web application con React, .NET e Microsoft SQL Server. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere cosa dobbiamo installare e come configurare al meglio i nostri strumenti di sviluppo, il nostro ambiente per realizzare un progetto con un'applicazione front-end in React, un back-end in .NET e in una fase 2 una base di dati su Microsoft SQL Server. Per sostenere la creazione di questi video mi raccomando metti un mi piace se impari qualcosa e iscriviti al canale. Detto tutto questo possiamo partire e vediamo che cosa realizzeremo alla fine di questo video. Partiamo con capire l'architettura di base, cioè i mattoni che andranno a comporre il nostro sistema software. Abbiamo un front-end, quindi l'applicazione che girerà sul browser dei nostri utenti, che sarà un client React, una single page application. Poi abbiamo un back-end realizzato in ASP.NET Core per esporre delle web API, quindi il back-end. E infine in uno step 2, in un video successivo, andremo a implementare una base di dati per rendere persistenti appunto i dati stessi che la nostra applicazione andrà a maneggiare, quindi letture e scritture da una base di dati. Abbiamo un minimo di prerequisiti per seguire questo tutorial. Se vuoi fare passo passo quello che faccio anch'io, dobbiamo avere una infarinatura di base di HTML, CSS, JavaScript e C Sharp. Ovviamente per la fase 2 anche un po' di SQL quando maneggeremo i dati. Però veramente non stiamo per affrontare argomenti super complessi, però le basi di questi linguaggi servono per capire cosa stiamo facendo anche se io spiegherò passo passo e cercherò di commentare tutte le istruzioni, almeno la maggior parte delle istruzioni che andiamo ad utilizzare o a scrivere. Alla fine di questo video avremo fatto partire questo esempio, questo template che mostra delle previsioni meteo in formato tabellare in maniera molto grezza. Poi applicheremo la libreria grafica MUI Material User Interface per React e la trasformeremo in questa tabella un po' più carina senza spenderci troppo tempo ma giusto per dimostrare la semplicità con cui possiamo riutilizzare componenti grafici con React per partire con il piede giusto nel nostro progetto. Per fare il setup dell'ambiente di sviluppo dobbiamo scaricare e installare un po' di strumenti che sono tutti quanti gratuiti per scopo personale, individuale e anche di studio per cui nessun problema, nessun costo e nessuna licenza da acquisire. La prima cosa che dobbiamo scaricare è Node.js che è il nostro runtime JavaScript che serve appunto per interpretare il JavaScript che scriviamo nella parte di frontend ci fa anche e ci dà tutte le possibilità di scaricare tramite NPM i pacchetti aggiuntivi di cui faremo ampiamente uso tra cui in particolare React e è incluso quindi quando si installa Node da questo indirizzo si installa anche NPM il gestore di pacchetti. Consiglio di utilizzare la versione LTS che sta per Long Time Support che è quella raccomandata per la stragrande maggioranza degli utenti a meno che non siamo dei super curiosi e vogliamo vedere le ultimissime novità utilizzando la current quindi proprio l'ultima versione andando invece sulla LTS siamo sicuri che è quella più stabile al momento di registrazione di questo video è la 18.16.0 con NPM 951 installiamo anche npx che è l'esecutore dei binari all'interno dei pacchetti che ci agevola l'esecuzione di script e così via è un prerequisito. Per gli ambienti di sviluppo utilizziamo Visual Studio Code in particolare per il frontend gratuito e Visual Studio 2022 edizione community per quanto riguarda C Sharp AspNet Core che è assolutamente gratuita per scopo individuale e persona singola e di studio. C'è da fare una nota nel senso che la parte C Sharp quindi back-end potrebbe essere tranquillamente fatta anche su Visual Studio Code ma per quanto mi riguarda l'esperienza su Visual Studio 2022 per questo tipo di tecnologia e linguaggio è superiore rispetto al Visual Studio Code che invece è leggermente migliore forse proprio migliore non solo leggermente per quanto riguarda la parte di frontend quindi javascript quindi io li utilizzo entrambi in maniera congiunta per sfruttare i punti a favore di ciascuno dei due Visual Studio Code è scaricabile da code.visostudio.com scegliamo la versione per Windows, Linux o Mac OS a seconda del nostro ambiente c'è da notare che è utilissimo installare le estensioni che ho messo qui ESLint che è un linter per javascript e quindi ci darà dei suggerimenti sulle best practice di come scrivere il codice javascript mettendoci degli squiggle sotto il codice e così via e anche Prittier che è un formatter del codice che ci aiuta a rispettare magari delle convenzioni sugli accapi, gli spazi, le graffe eccetera eccetera ogni volta che noi premiamo salva Prittier ci formatta il file in maniera molto comoda anche Simple React Snippet ci verrà utile sul lungo termine quando dovremmo scrivere sempre magari delle parti di codice ripetitive di React come per esempio Import React from React eccetera possiamo utilizzare degli snippet per andare più rapidi e questa estensione ne contiene di carini Visual Studio invece la Community Edition per .NET, C Sharp eccetera lo troviamo su visualstudio.microsoft.com barra downloads mi raccomando quando lo installiamo utilizziamo la assicuriamoci di aver selezionato i carichi di lavoro o workload o workflow nella versione inglese con sviluppo ASP.NET e web assolutamente accesa altrimenti non avremo accesso ai progetti di tipo ASP.NET Core per le nostre API di back-end le utilizzeremo nei nostri progetti sono queste librerie React React Router e Material UI detta anche MUI che si installano con questa riga di comando che ho messo qui vedete che fa uso di npm che è il package manager di node install e installiamo un pochino di cose per React Router e anche tutto quello che serve per la Material UI infine andremo a includere tutto quello che facciamo in un inizio in una punta di application lifecycle management o pratiche DevOps andando a utilizzare la piattaforma GitHub per salvare il codice che abbiamo creato in un repository git in cloud nel cloud appunto di GitHub in futuri video andremo anche a fare automazione CICD con GitHub Action per inserire continuous integration e deployment sempre su GitHub fine con le parole andiamo nel tutorial andiamo a fare passo passo quello che ho mostrato dando darò per assodato che gli strumenti di sviluppo siano già stati installati parto da Visual Studio 2022 così sfruttiamo un template molto carino che ci permette di partire subito pronti via con già un applicazione React di esempio e un back-end configurati quindi faccio partire Visual Studio faccio create new project e cerco React tra tutti i template se abbiamo fatto l'installazione correttamente utilizzando inserendo i carichi di lavoro per lo sviluppo web ci ritroviamo questo React e Aspenet Core Preview che ci dice un'applicazione full stack front-end e un back-end Aspenet Core quindi clicchiamo qui facciamo doppio clic e diamo un nome alla nostra solution e in questo caso la chiamo React 101 giusto per imparare facciamo create e ci mette un po' perché va a predisporre lancia React script che sono una serie di scripting di comodo per impostare l'ambiente di sviluppo scarica dei pacchetti quelli predefiniti di React e così via ci mette un pochino metto in pausa ci rivediamo tra poco ecco Visual Studio ha finito mi ritrovo con la pagina pulita e qui sulla destra i progetti React app che contiene appunto come suggerisce il nome tutta la struttura di cartelle file per l'applicazione frontend in React e la parte di backend web API che contiene tutta la struttura di file e le cartelle per le API rest che andranno ad alimentare l'applicazione frontend entriamo subito nel vivo quindi e andiamo a vedere con F5 o cliccando qui su start che cosa succede succede due cose Visual Studio per noi fa partire il server di sviluppo per l'applicazione frontend e ci fa partire anche le web API quindi abbiamo che ci vengono aperte queste due finestre per noi questa qui con l'open API specification dove possiamo testare direttamente l'API di backend e vedere che funzionano e abbiamo qui l'applicazione React andiamo a vedere adesso stop che cosa c'è nelle cartelle quindi nella cartella web API abbiamo la struttura classica di un progetto Aspenet Core con il controller qui dentro la cartella controller che ci espone le API in questo caso per l'applicazione per queste previsioni del meteo sono appunto generate in maniera più o meno random tramite appunto vengono esposte con questo metodo get abbiamo questi previsioni chill cool mild warm eccetera che vengono composte in maniera random e insieme a delle temperature random quando noi chiamiamo in get questo endpoint weather forecast dopodiché andiamo semplicemente l'avvio nel programma c'è l'avvio di tutto quello che è l'engine Aspenet e weather forecast abbiamo la descrizione questa è una descrizione della classe modello una classe modello che ci descrive il dato che viene mandato che è sparato fuori tramite le API weather forecast eccolo qui lo vediamo qua in get viene sparato fuori un weather forecast ovviamente verrà sputtato fuori in json mentre per quanto riguarda il react per quanto riguarda l'applicazione react qui dentro abbiamo nella cartella public delle risorse statiche abbiamo il file index che è quello che viene servito come interpoint dell'applicazione in cui però verrà iniettata tutto il tutto il mondo di react abbiamo dei loghi abbiamo la favicon abbiamo il manifest che è un file di testo in formato json che fornisce informazioni riguardo a un'applicazione il suo caso più comune di utilizzo è quello quando facciamo una progressive web app per un dispositivo ci può venire utile per descrivere quella che è appunto si vede qui l'icona da mettere nell'home screen del device o nel desktop e così via infine abbiamo la cartella src che contiene quelli che sono i veri e propri sorgenti dell'applicazione react in particolare tutti quelli che vengono chiamati i componenti nel mondo react abbiamo qui il css e il javascript del nostro componente app che rappresenta l'applicazione principale abbiamo l'index che è l'entry point dell'applicazione react abbiamo un'utilità che serve per fare gli alt check per sapere se la nostra applicazione è sana e così via risponde ed è accessibile infine abbiamo il setup del proxy che è la configurazione di una libreria che si chiama http proxy middleware permette di inoltrare le chiamate API dal server di sviluppo al server back end vero e proprio che eroga le nostre API qui sotto perché il nostro browser soprattutto quando siamo in sviluppo dialoga con un server web di sviluppo e quando noi andremo a fare le chiamate del nostro API non deve rispondere direttamente questo server di sviluppo ma devono rispondere le API che abbiamo nel back end cioè devono rispondere questo oggettino qui web API sulla destra quindi ci serve un proxy che inoltre queste chiamate quindi in questo caso tutte le chiamate che hanno nell'indirizzo weather forecast verranno ignorate dal server di sviluppo e verranno mandate al server che eroga le API dopo vedremo più nel dettaglio questo è per quanto riguarda la configurazione dei test automatici perché è buona pratica sviluppare con i test automatizzati e quindi mano a mano che sviluppiamo i nostri componenti li possiamo anche testare infine abbiamo qui dentro le variabili d'ambiente locali dove andiamo visual studio per noi quando ha creato il template ha creato quello che è il certificato con relativa chiave privata in questa cartella è stato configurato tutto per noi in maniera assolutamente trasparente e quindi non ce ne dobbiamo più che altro preoccupare molto abbiamo un file di git ignore che ci permetterà di togliere dal repository di git cose che non devono essere incluse in questi due file l'asplanet cora che ttps e react js c'è la gestione dei certificati installazione dei certificati che al momento saltiamo non ci serve non entriamo subito nel dettaglio passo ora dentro visual studio code vado nel percorso dev react one on one che è dove ho creato il progetto con visual studio entro nella cartella react app e faccio select folder andiamo a questo punto a fare il lavoro per portare dentro le librerie che abbiamo nominato prima cioè react router e react e la mui per i componenti grafici andiamo ad utilizzare immediatamente quella dei componenti grafici per vedere come funziona quindi apro un terminale faccio un new terminal qui ingrandisco un po' così vediamo bene e allora mi porto dentro mui con con questa riga di comando ma mi assicuro di essere assolutamente dentro la cartella giusta cioè dove ci sono i package json sono dentro react app sì quindi mui material react e styled queste sono le librerie che utilizziamo lasciamo che l'installer vada a buon fine che l'installer di pacchetti faccia il suo mestiere perfetto a questo punto vado nella mia applicazione app.js meglio l'applicazione react inizia su index index vediamo che react si inietta nell'elemento di id root della pagina html di base la index qui quindi questo è l'id root il div con id root react tutto quello che creiamo con react si inietterà e si sostituirà dentro questo div l'applicazione parte da index.js e comincerà a renderizzare il nostro componente custom chiamato app che è già stato fatto per noi dal template di visual studio andiamo a vedere cosa c'è dentro app è un classico componente react quindi vediamo che viene importata la libreria react questo extends component arriva da react e andiamo a vedere come qui nel metodo render viene renderizzata nel caso il back end sia disponibile la tabella andiamo per esempio facciamo una prova scriviamo react weather forecast vado ritorno su visual studio faccio start così mi fa partire in automatico back end front end e vedo la scritta che ho modificato la cosa bella di lavorare con questa tecnologia è che io posso andare nella mia app punto js e cambiare al volo metto react punto esclamativo weather forecast ecco che senza dover riavviare niente l'applicazione si accorge il server di sviluppo si accorge immediatamente della modifica e rirenderizza quella parte di pagina e quindi eccoci qua con react weather forecast funzionante abbiamo back end e front end che dialogano ritorno su visual studio code per andare a utilizzare la libreria le librerie grafiche che abbiamo installato poco fa andiamo nella nostra applicazione punto js vado nella parte del componente di react dove si renderizza quindi vado quindi vado nel metodo render e qui c'è app render forecast table lo seguo premendo f12 e vado nel metodo che va effettivamente a impaginare in formato diciamo in forma di tabella quello che è stato letto dalle api di back end allora utilizzo come da documentazione a questo indirizzo mui.com material ui react table la tabella che viene messa appunto a disposizione della libreria mui quindi che cosa faccio vado a sostituire l'hanno fatta in maniera abbastanza pratica quindi table prima cosa devo importarmi il componente quindi vado a fare gli importi tutto quello che mi serve e vado a fare metto in pausa li prendo tutti importi table table body table cell table container questo in realtà non mi serve di troppo hid e row e andiamo a sostituire i componenti i tag html standard con i componenti della libreria mui quindi table mi diventa table così tolgo questo class name che non mi serve t hid mi diventa table header table hid e lo vado a chiudere anche qua sotto poi tr mi diventa table row quindi un po' di lavoro di copio e incolla e th mi diventa table vado ad utilizzare table cell perché in questo caso sono delle celle dentro leader secondo la guida della documentazione di mui table body mi diventa t body mi diventa table body table mi diventa table così queste erano le table row fatte così e table cell sono così faccio la stessa cosa di qua avrei potuto fare con un trovo e sostituisci ma vabbè sono poche sono poche entry l'abbiamo viste una volta ho salvato con il ctrl s quindi se ho fatto tutto giusto il primo colpo ho qui la pagina che si è aggiornata e infatti vediamo come sia una tabella completamente diversa comunque semplice ma renderizzata con i componenti facciamo un'altra prova la tengo lo tengo qui metto così e ci possiamo rendere conto che è proprio quello andando per esempio a dare farò una tabella più compatta che è con size uguale small faccio ctrl s e vediamo che la tabella si compatta immediatamente ok ora vado a configurare o meglio a installare react router che serve il single page application per fare il routing lato client quindi navigare senza richiedere le intere pagine ma solo le parti che servono e rirenderizzare solo quelle parti che servono lato client senza richiedere completamente lato server utilizzo npm install router react router dom, local forage matchsorter sort by che sono come da documentazione ufficiale i pacchetti che servono per react router ok e tutto quanto è installato al momento non lo utilizzo sarà materiale per un prossimo video quello che ci rimane da fare è prendere tutto questo fantastico lavoro che abbiamo fatto e salvarlo su un repository github faccio nuovo repository lo chiamo react 101 faccio create repository ok adesso a questo punto io ho già un repository sono comandi questi qui git init tutti l'aggiunta di tutti i file che io ho già fatto ho già creato un repository locale da me l'unica cosa che mi rimane da fare è farne un push quindi faccio remote add prendo questi non è lui ma sono qui faccio ctrl v incollo tutto eccolo adesso facendo f5 qua ho il mio repository e quindi ho salvato in cloud tutto il lavoro che ho fatto e siamo pronti eventualmente per prossime puntate con continuous integration del livre insomma tutte le pratiche devops che da qui possono partire per oggi con l'applicazione react ci fermiamo qui abbiamo visto il front end e il back end che dialogano insieme non siamo entrati nel super dettaglio di tutte le righe di codice lo faremo nel prossimo step prendiamo sempre un po' di cose per buono ma andiamo ad inserire il terzo componente cioè una nostra base di dati da cui andremo a leggere le previsioni meteo e passando per il back end andiamo a visualizzarle nel front end ciao